Io mi sento male. Sei una persona speciale, un po' speciale, veramente, stimare di tutto. Ma ci occupi di ora? Penso di sì. Stefania, Tommaso, allora voglio dirvi una cosa. Siamo dei cialtroni. Allora dovete sapere, cara Stefania e caro Tommaso, che la vera eliminazione sarà solo venerdì prossimo. E quindi voi, tu Stefania stasera, non sei per niente eliminata. Grazie. 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 Grazie.